oggi porto un tacos di canapa con una rabiola zafferano e dei finferli nostrani il tacos è fatto con una canapa bellunese quasi chilometro zero dalla val belluna e viene fatto con una piccola percentuale di canapa resta farina normale zero zero è una rabiola sempre nostrana diciamo della del veneto e dello zafferano della val di fiemme dolomitico e i finferli sono della valle e comelico anche perché quest'estate c'è stato un buon raccolto sia di finferli che di porcini o comunque di funghi generale sulla crema di zucchine per amalgamare il tutto